La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono. L'ho fatto attraverso la commissione di vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo. RAI News 24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici senza alcuna mediazione giornalistica preceduti solamente da una sigla. Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande anche scomode, verificano quanto detto, fanno notare incongruenze. Per questo, gentili telespettatori, vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale. Indipendente, equilibrata e plurale. Indipendente, equilibrata e plurale.